La diretta di ieri su Cilento Channel è stata dedicata al tema ospedale di Agropoli e ha visto diversi interventi di sindaci cilentani sulla questione. Nel suo consueto appuntamento serale, il primo cittadino ha ulteriormente parlato della situazione del Covid Hospital. Servono due figure che sono gli infettivologi, gli esperti del settore e anche gli pneumologi. Sarà necessaria la presenza di queste figure per indirizzare sulla cura e anche sul possibile aggravamento della malattia. Per quanto riguarda il personale della radiologia, rianimazione e del laboratorio di analisi, sembra che ci siamo. Mancano queste figure specialistiche. Il primo cittadino ha anche lanciato un appello ai medici specializzati degli ospedali limitrofi al fine di ottenere una loro disponibilità e completare i turni del Covid Hospital. Mi appello anche a chi fa politica, ai sindaci che hanno rapporti negli ospedali. Spostiamoci verso Agropoli e diamo inizio ad un percorso virtuoso tutti insieme. Grazie a tutti.